Con macchina fotografica in mano i giovani di Forza Italia hanno passeggiato nelle metri più frequentate della città della Fortuna immortalando i diversi punti di degrado in zona mare e in centro storico. Immagini che ritraggono lo stato di abbandono dei bagni alla stazione ferroviaria, le biciclette pubbliche inutilizzabili, l'area verde piena di siringhe rifiuti poco prima di raggiungere il parcheggio Van Vitelli. Continuando in direzione Sassonia invece si sono soffermati sulle isole ecologiche diventate discariche e sul parco di via del Perugino in totale abbandono. In zona Lido poi sulle fontane non funzionanti e sporche, sulle panchine che con poco potrebbero essere risistemate e puntualizzano ma anche sull'infinita distesa di sterpaglie alla foce dell'Arzilla. La situazione in centro storico non è diversa, il pincio è diventato ormai un dormitorio e un orinatorio lamentano e le mura piene di erbacce imbrattate con scritte di ogni genere. Come ultima meta si sono recati nel punto in cui la giunta di sinistra metteva in scena il suo primo atto ufficiale e cioè la pulizia dei gradini della Basilica di Vitruvio. Pare che adesso abbiano altro da fare lamentano i ragazzi visto che l'erba è ricresciuta di pari passo al degrado della città. Dove sono finiti i buoni propositi chiedono? Le macchine fotografiche e il tour del degrado dei consiglieri di maggioranza Cristian Fanesi, Enrico Fumante e Laura Serra. Dopo un anno di nulla non è ora che comincino a fare veramente qualcosa? Iniziando suggeriscono anche dalle cose più piccole come ad esempio tagliare l'erba che cresce tra i San Pietrini di piazza 20 Settembre, in particolare vicino alla fontana e al teatro, a meno che concludono ironizzando non si voglia trasformare la piazza in un campo di calcetto.